Arrivo. Cinque donne in quattro mesi. La sua responsabilità non la spaventa. Se lo prendo salvo qualcuno. Cos'è quella storia del rossetto? È quasi uguale al suo. Me lo dica lei. Un chirurgo, un macellaio. Sappiamo chi è. Avrò ancora bisogno di interrogarla, signorina Wallard. Qual è il vestito che indossava ieri? Questo. Doppio appuntamento con il commissario Maigret, il celebre investigatore nato dalla penna di Georges Simenon, interpretato da Sergio Castellitto. Questa sera e domani sera alle 21.05. Luis, ma perché c'è qualcuno che non sopporta di stare vicino a chi lo ama? Non lo so.